La ruota dei regali ti porta in un nuovo mulino, quello di Archimede, con i fantastici giochi ad energia solare. Ehi, guarda, c'è la giusta! E la macchinina che si trasforma in gatto delle nevi! E infine via! C'è anche lo specchio delle scienze! E un mucchio di altre invenzioni! E di notte, incredibile, il mulino si illumina! Averlo è facile perché trovi le spighe su tantissimi prodotti del mulino bianco e per la mamma la collezione tovaglie 93. Fermati al mulino, scegli il tuo regalo. Scegli il tuo regalo.